Con questo tutorial andiamo a vedere dei problemi riguardanti l'area del cerchio. Partiamo da questo caso. Calcola l'area della parte colorata in figura sapendo che il rettangolo ha il perimetro di 196 decimetri e l'altezza ai tre quarti della base. Per andare a calcolare l'area colorata dovremo andare a calcolare l'area del cerchio a cui andremo a sottrarre l'area del rettangolo. Andiamo ora a determinare le dimensioni del rettangolo. Indichiamo con B la base del rettangolo e con H l'altezza del rettangolo. Sapendo che il perimetro è di 196 decimetri, il semiperimetro, che è pari a 98 decimetri, ossia 196 diviso 2, sarà proprio uguale alla somma della base con l'altezza e quindi scrivo che base più altezza è uguale al semiperimetro, ossia 98 decimetri. Sappiamo poi che l'altezza H è i tre quarti della base e quindi scrivo che H è tre quarti B. Ora, al posto di H, possiamo andare a sostituire tre quarti B, ottenendo B più tre quarti B uguale 98 decimetri. Effettuo ora il minimo comune multiplo. 4 più 3 fratto 4B uguale 98 decimetri, da cui ottengo sette quarti B uguale 98. Ora, per togliere il sette quarti di fronte B, moltiplicheremo tutti e due i membri per 4 settimi. In questo modo 7 e 7 lo semplifico, 4 e 4 lo semplifico. Ora, 98 per 4 diviso 7 è pari a 56 e quindi scrivo che B è uguale a 56 decimetri. In questo modo ho determinato la base del rettangolo. Sappiamo poi che la somma della base con l'altezza è di 98 decimetri. La base è 56 decimetri e allora 98 meno 96 è pari a 42 e quindi l'altezza è pari a 42 decimetri. E allora vado a scrivere in figura che l'altezza di questo rettangolo è 42. Vado ora a calcolare l'area del rettangolo che indico con R e scriverò 56 decimetri per 42 decimetri, ottenendo 2352 decimetri quadri. Devo ora andare a calcolare l'area del cerchio e per far questo avrò bisogno del raggio della circonferenza. Vado ora a considerare il punto medio della base AB e unisco O con il punto medio. Questo triangolo è un triangolo rettangolo dove questo cateto è pari a metà della base e quest'altro cateto risulterà essere pari a metà dell'altezza. E allora per determinare il raggio potrò applicare il teorema di Pitagora andando a scrivere R uguale radice quadrata di metà della base e quindi la metà della base sarà 56 diviso 2, ossia 28 al quadrato più metà dell'altezza, 42 diviso 2, è pari a 21 al quadrato e tutto quanto sotto radice. Sviluppando questi calcoli si ottiene 35 decimetri e allora vuol dire che il raggio della circonferenza misura 35 decimetri. Posso ora andare a calcolare l'area del cerchio scrivendo area uguale π che andrò a approssimare con 3,14 per il raggio al quadrato, ossia 35 decimetri al quadrato. Sviluppando questi calcoli si ottiene 3846,5 decimetri quadri. Indicando con f l'area della figura colorata dovrò eseguire la differenza dell'area del cerchio con l'area del rettangolo e allora andrò a scrivere 3846,5 decimetri quadri meno 2352 decimetri quadri ottenendo 1494,5 decimetri quadri. Un giardino ha la forma di un rettangolo il cui perimetro è 230 metri e una dimensione un nono dell'altra. Nel suo interno vi sono quattro vasche circolari di raggio 2 metri ciascuna. Calcola l'area della parte del giardino destinata al verde. In figura ho disegnato un giardino di forma rettangolare il cui perimetro è di 230 metri e allora vado a scrivere che π è pari a 230 metri. Sappiamo poi che una dimensione è un nono dell'altra. Indico con b la base di questo rettangolo ed indico con h l'altezza di questo rettangolo. Allora posso andare a scrivere che l'altezza h è pari a un nono della base b. Conoscendo il perimetro, dividendo per due otteniamo il semiperimetro, ossia questo lato più questo lato e allora posso andare a scrivere che la somma della base con l'altezza è uguale al semiperimetro, ossia 230 diviso 2 che è pari a 115 metri. Sapendo ora che l'altezza è un nono della base, qui al posto di h possiamo andare a scrivere un nono b e allora ottengo b più un nono b uguale 115 metri. Effettuiamo il minimo comune multiplo, 9 più 1 fratto 9b uguale 115 metri e quindi otteniamo 10 noni b uguale 115 metri. Moltiplicando ora tutte e due membri per 9 decimi, possiamo semplificare a sinistra 10 e 10, 9 e 115 per 9 diviso 10 otteniamo b uguale a 103,5 metri. Visto che la somma della base con l'altezza è 115 metri e la base è 103,5 metri, l'altezza sarà pari a 115 meno 103,5, ossia 11,5 metri. A questo punto possiamo calcolare l'area dell'intero rettangolo che indicherò con r e sarà data da 103,5 metri per 11,5 metri ottenendo 1190,25 metri quadri. Lo scopo è capire qual è l'area destinata al verde. All'interno di questo giardino vi sono 4 vasche circolari di raggio 2 metri ciascuna. E allora dovrò andare a calcolare l'area di un cerchio e poi moltiplicare per 4 e quindi vado a scrivere l'area di un cerchio sarà pari a π che è approssimo con 3,14 per il raggio al quadrato, ossia 2 alla seconda, è pari a 4. Moltiplicando 3,14 per 4 si ottiene 12,56 metri quadri. Allora l'area destinata al verde che indicherò con G, ossia giardino, sarà data da l'area dell'intera superficie, 1190,25 metri quadri, meno l'area di 4 vasche circolari, quindi scrivo meno 4 per 12,56 metri quadri, ossia sto togliendo l'area di questi 4 cerchi. Effettuando questi calcoli si ottiene 1140,01 metri quadri. Il piano di un tavolo è formato da un rettangolo e da due semicerchi esterni al rettangolo, aventi ciascuno il diametro coincidente con il lato maggiore del rettangolo. La somma delle dimensioni del rettangolo misura 26 decimetri e una e 10 terzi dell'altra. Calcola la misura del contorno del tavolo e la sua area. In figura ho disegnato un tavolo costituito da un rettangolo e da due semicerchi esterni. Sappiamo che la somma delle dimensioni del rettangolo sono 26 decimetri, indicando con B la base del rettangolo e con H l'altezza del rettangolo posso andare a scrivere che B più H è pari a 26 decimetri. Sappiamo poi che è una dimensione 10 terzi dell'altra e quindi posso scrivere che la base è 10 terzi dell'altezza. Visto che la base è pari a 10 terzi H, qui al posto di B possiamo andare a sostituire 10 terzi H. Andando a fare il minimo comune multiplo otteniamo 10 più 3 fratto 3 H uguale 26 decimetri e quindi avremo 13 terzi H uguale 26 decimetri. Moltiplicando ora tutte e due membri per 3 tredicesimi possiamo andare a semplificare a sinistra 13 con 13 e 3 con 3, mentre a destra 26 diviso 13 è pari a 2 e moltiplicando per 3 otteniamo H uguale a 6 decimetri. Una volta che abbiamo determinato l'altezza di questo rettangolo possiamo andare a determinarne la base e quindi andiamo a fare 26 meno 6 e allora la base di questo rettangolo è di 20 decimetri. Possiamo a questo punto calcolare l'area di questo rettangolo andando a fare base per altezza e indicherò l'area del rettangolo con R 20 decimetri per 6 decimetri ottenendo 120 decimetri quadri. Devo ora andare a calcolare l'area di questo semicerchio e di questo semicerchio. La somma delle aree di questi due semicerchi è uguale all'area del semicerchio che ha questo diametro, ma questo diametro è pari a 20 decimetri e allora il raggio di questo semicerchio sarà di 10 decimetri, ossia la base 20 diviso 2. Vado ora a calcolare l'area di questi due semicerchi andando a scrivere 3,14 per il raggio al quadrato. In questo modo vado a calcolare l'area di questo semicerchio più l'area di questo semicerchio ottenendo 314 decimetri quadri. Complessivamente l'area del tavolo che indicherò con t sarà data da l'area del rettangolo 120 decimetri quadri più l'area di questi due semicerchi che è pari a 314 decimetri quadri ed otteniamo 434 decimetri quadri. Devo ora andare a calcolare la misura del contorno di questo tavolo. Questo lato e questo lato lo conosciamo ed è pari a 6 decimetri. Devo ora andare a calcolare la lunghezza di questa semicirconferenza e la lunghezza di questa semicirconferenza. In altre parole devo andare a calcolare la lunghezza di una circonferenza perché questa parte più questa parte mi dà proprio l'intera circonferenza. E allora il perimetro del tavolo sarà dato da questo lato più questo lato, ossia 6 più 6, e allora scrivo 12 decimetri, più 2 per 3,14 per il raggio che è pari a 10 decimetri. In questo modo ho calcolato la lunghezza della circonferenza costituita da questo tratto e da questo tratto. Sviluppando questi calcoli si ottiene 74,8 decimetri. In un rombo la somma delle diagonali misura 30 decimetri e una i due terzi dell'altra. Calcola l'area del cerchio inscritto nel rombo. Per andare a calcolare l'area del cerchio inscritto in un rombo la prima cosa che dobbiamo andare a fare è calcolare l'area del rombo perché in questa maniera utilizzando la formula raggio della circonferenza inscritta uguale area del rombo fratto due volte il lato possiamo andare a determinarne, possiamo determinare il raggio da cui poi andiamo a calcolare l'area del rombo. Allora la prima cosa che devo andare a fare è calcolare questa diagonale e questa diagonale. indichiamo con D1 e D2 le diagonali del rombo e posso scrivere che la somma delle diagonali D1 con D2 è pari a 30 decimetri. Sappiamo poi che una è due terzi dell'altra e quindi posso scrivere che D1 è uguale a due terzi D2. Visto che D1 è pari a due terzi D2 qui al posto di D1 posso scrivere due terzi D2 e quindi scrivo due terzi D2 più D2 uguale a 30 decimetri. Vado ora a fare il minimo comune multiplo ed ottengo 2 più 3 fratto 3 D2 uguale 30 decimetri da cui 5 terzi D2 è uguale a 30 decimetri. Moltiplico ora tutti e due membri per 3 quinti e poi vado a semplificare. A destra ho 30 diviso 5 che è pari a 6 e 6 per 3 ottengo 18. Allora la diagonale D2 misura 18 decimetri. Per determinare la diagonale D1 sarà sufficiente fare 30 decimetri meno meno 18 decimetri ottenendo 12 decimetri. Una volta che abbiamo determinato le due diagonali possiamo andare a calcolare l'area del rombo andando a scrivere area uguale diagonale 18 per diagonale tutto quanto diviso 2. Svolgendo questi calcoli si ottiene un'area di 108 decimetri quadrati. Una volta che abbiamo determinato l'area del rombo in questa formula abbiamo determinato l'area. Lo scopo ora è andare a determinare il lato del rombo. Per far questo fisso la tensione su questo triangolo. È un triangolo rettangolo dove questo cateto è pari alla metà della diagonale 1, ossia 12 diviso 2 e quindi scrivo 6 decimetri. Mentre quest'altro cateto, OC, è pari a metà della diagonale 2 e 18 diviso 2 è pari a 9 decimetri. Ora, per andare a calcolare il lato del rombo, applicherò il teorema di Pitagora andando a scrivere lato uguale radice quadrata di cateto al quadrato, ossia 6 al quadrato, più cateto al quadrato, 9 al quadrato. Sviluppando questi calcoli si ottiene che il lato è pari a 10,82 decimetri. E quindi posso scrivere che il lato del rombo misura 10,82 decimetri. Ora ho tutti gli elementi per calcolare il raggio della circonferenza iscritta. E allora vado a scrivere che R è uguale all'area del rombo, ossia 108, fratto 2 volte il lato, ossia 2 per 10,82. Effettuando questi calcoli si ottiene che il raggio della circonferenza iscritta è di 5 decimetri. Una volta determinato il raggio, per calcolare l'area del cerchio iscritto sarà sufficiente applicare la formula area uguale pi greco per raggio al quadrato, ossia 5 decimetri al quadrato, ottenendo 25 pi greco decimetri quadri. Vediamo quest'ultimo esempio. Un triangolo isoscele ha il perimetro di 177 centimetri e la base di 31 centimetri. Calcola il raggio del cerchio equivalente ai 5 ottavi del triangolo. Di questo triangolo isoscele conosciamo il perimetro P che è pari a 177 centimetri e sappiamo che la base misura 31 centimetri. Lo scopo è andare a determinare il raggio del cerchio equivalente ai 5 ottavi del triangolo e allora dovrò andare a calcolare l'area di questo triangolo. Avrò bisogno allora della base che conosco e dell'altezza che devo determinare. Per andare a determinare l'altezza avrò bisogno di conoscere il lato del triangolo e per far questo sottrarrò al perimetro 31 centimetri e scriverò 177 centimetri meno 31 centimetri, ottenendo la somma di questo lato con questo lato. Dividendo per 2 si ottiene 73 centimetri e allora vuol dire che il lato di questo triangolo misura 73 centimetri. Fisso ora la tensione su questo triangolo. Questo triangolo è un triangolo rettangolo di cui conosco l'ipotenusa e il cateto AD è la metà della base. Dividendo allora 31 per 2 si ottiene 15,5 centimetri. Posso ora applicare l'inverso del teorema di Pitagora per andare a determinare l'altezza h e allora scriverò che h è uguale alla radice quadrata di 73 al quadrato meno 15,5 al quadrato. Svolgendo questi calcoli si ottiene 71,33 centimetri. Ora conosco la base e l'altezza e posso andare a calcolare l'area del triangolo che è pari a un mezzo per la base per l'altezza. Sviluppando questi calcoli si ottiene 1105,61 centimetri quadri. Andiamo ora a calcolare l'area del cerchio. Sappiamo che esso è equivalente ai 5 ottavi dell'area del triangolo e allora posso scrivere che l'area del cerchio è uguale ai 5 ottavi dell'area del triangolo, ossia di 1105,61 centimetri quadri. Svolgendo questi calcoli si ottiene 691 centimetri quadri. Per andare a determinare il raggio potremo applicare la formula inversa radice quadrata dell'area del cerchio fratto pi greco che approssimerò con 3,14. E allora posso andare a scrivere radice quadrata di 691 centimetri quadri diviso 3,14. Effettuando questa divisione e poi estraendo la radice quadrata si ottiene 14,83 centimetri. E con questo termino il tutorial su problemi riguardanti l'area del cerchio. Grazie per la visione!